Ciao a tutti e bentornati, oggi giochiamo contro l'Efe e ci proviamo e ci proviamo anche noi a giocare con questa temperatura adesso andiamo a scaldarci che c'è un freddo cane, 2,5 gradi circa, speriamo bene è un casino si wow dai Dai, bravo! Dai! Wow! Bravo, bravo! Bene! Bene! Uff! No curo! Guarda lo! Bene! 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 Eh, tu non lo cai! Il film è da tre! Non lo fate quando è tirato a pistola! Non lo fate! Fini per i monti! Sono a 3-0 su! E noi ci chiamiamo a fare! Ma qua! Si è più grande! Grande! Ha ha ha! Un bel attorino da montana! Non ci chiamiamo! E' un bel attore! Un bel attore! E' un bel attore! Non ci chiamano di farci! Ma qua ram�ion! No fa ruotare! Non fa ruotare! Chi, chi? Ine, meto! Ehi! Il torema! aleccani Wow, bravo! bravo bravo tranquilla grande bravo grande torna 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 ci vai dai va bene guardalo guardalo la partita finita 5 a 1 adesso potete fare la doccia che c'è freddo il campo con 2 gradi grande e niente adesso ci stiamo caccando dal freddo guardate la situazione del cameraman guardate gli stronzi guardate e noi invece siamo in magliette infatti adesso andiamo a lavareci andiamo a lavareci e 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